Musica Dal 14 al 16 marzo lo Juventus Stadium di Torino ha accolto lo svolgimento della 14esima edizione di Io Lavoro, la job fair torinese semestrale dedicata al mercato del lavoro, principalmente nei settori turistico-alberghiero, ristorazione, sport e benessere, commercio, grande distribuzione organizzata, agroalimentare, ICT e digital. Oltre ai settori economici è anche stato dedicato spazio a servizi specifici, apprendistato, green jobs, franchising e offerte di lavoro dedicate ai disabili. 13.000 iscritti, 10.000 offerte di lavoro, 99 aziende. Questo il biglietto da visita dell'evento che è finanziato dal Fondo Sociale Europeo e ha un carattere trasfrontaliero. Tradizionalmente la manifestazione è una manifestazione fatta in collaborazione con Valle d'Aosta e Liguria, ma anche con Ronalp e con altre regioni confinanti che sono ospitate nella manifestazione in uno scambio per cui noi andiamo poi nelle loro manifestazioni corrispondenti. La Valle d'Aosta ha tradizionalmente una stagionalità turistica estiva forte, nonostante le inevitabili flessioni ora generate dalla crisi. E quindi i visitatori allo stand valdostano sono stati numerosi e appartenenti a varie fasce generazionali. È importante far parte di questo paternariato in quanto la Valle d'Aosta non è un'isola, sta all'interno di rapporti sia con la Francia, con Ronalp e abbiamo anche lavoratori che stanno sempre di più guardando verso la Francia e verso altri paesi per la ricerca del lavoro, sia perché sono importanti i rapporti con il Piemonte, in quanto ad esempio io che faccio parte del Centro per l'impiego di Verresse e quindi un centro che si colloca al confine tra la regione Valle d'Aosta e la regione Piemonte, è importante dare dei servizi che possono permettere alle persone di valutare quelli che sono i diversi mercati del lavoro, soprattutto in questo periodo di crisi. I visitatori hanno potuto muoversi all'interno di varie aree, partecipare a seminari e workshop e anche su prenotazione effettuare colloqui di lavoro. La media di efficacia di questi incontri è del 25%, con una persona collocata al lavoro su quattro sottoposte a valutazione.